Ciao a tutti gli amici di Lettici di Paglia Italia, oggi abbiamo iniziato con gli scavi di questa nuova casa di paglia. Gli scavi vengono fatti dopo che è stato depositato il permesso di costruire, inizio dei lavori, depositato il progetto strutturale, la relazione geologica, la legge 10 e tutti quei documenti necessari per poter costruire una nuova abitazione. Come puoi vedere stiamo portando il terreno alla quota di progetto in modo da poter posizionare la casa nel punto giusto.